salvini stringere denti a marzo governo deve correre al massimo correre sul piano vaccinale cominciando a produrre in italia e comprando vaccini all'estero dove ci sono correre sui rimborsi approvando già settimana prossima un decreto che in una botta sola da quello che aveva dato il governo passato in quattro a cinque volte diverse adesso c'è un piano vaccinale che può mettere in sicurezza entro giugno l'intera popolazione italiana lo ha dichiarato matteo salvini oggi in visita al padiglione del policlinico in fiera milano ciao ciao